Ecco, nel Pessoa 24, in provincia di Varese, qua vicino c'è Busto, rendiamo omaggio agli schermitori di Busto e al maestro Giancarlo Toran, che credo che sia un pilastro della scherma nazionale, non solo, vero? Sì, il maestro Toran ha peraltro poi creato il museo della scherma, che credo in questo momento sia l'unico museo della scherma in Italia, è uno dei più rinomati e conosciuti per quanto riguarda il nostro ambiente. Maestro Toran ha creato tanti atleti e in un ultimo l'Ele Crosta, che era mio compagno di squadra, lui era nel Fioretto, però era mio compagno di squadra quando siamo andati alle Olimpiadi.